Un Sud che lavora e che se ci danno gli strumenti adeguati sappiamo investire e sappiamo lavorare. La cosa poi particolare che all'inizio non capivano, ma che dentro di me c'era fino in fondo la convinzione, è che oltre a parlare del porto, io parlavo del pomodoro, della mozzarella, dei prodotti ortofrutticoli. Dice ma che c'entra un presidente? È evidente che non conoscevano le mie origini, il pomodoro ce l'ho dentro di me. Quindi voglio dire che era un momento importantissimo per dire che abbiamo anche questa attrazione che non è tanto turistica ma che è di impresa e di possibilità di conoscere un mondo importante che collegato alla visita di Amalfi o di Pestum o di Capri può anche richiedere un momento di visita in queste terre nostre così martoriate ma così belle e interessanti che offrono anche qualche momento di testimonianza turistico-religioso, turistico-archeologico ma anche magari questa possibilità che offre il nostro territorio di momenti che riguardano i prodotti dell'agroalimentare e quindi una cucina che è famosa in tutto il mondo. Perché non approfittare anche del turista americano che viene qui e può mangiare qualcosa di particolare da noi andando via poi con un ricordo importante e magari hai trovato l'imprenditore che è venuto qui e che chiederà di questo prodotto nel tempo successivo. E la riprova è questa che i test che diamo ai turisti ci dimostrano proprio questo si parla in secondo o terza battuta delle bellezze naturali della nostra terra prima di tutto parlano della cordialità dei nostri cittadini, dei nostri abitanti meno male dico io perché insomma dobbiamo imparare un po' di più l'inglese perché dice che qui spesso si parla a gesti però si capiscono ma la cordialità e la simpatia è importantissima. Allora rifletto e dico guarda un po' se vanno via con questo ricordo possono andare via anche con altri ricordi e quindi anche la parte agroalimentare perché c'è un territorio interno che non ha la fortuna di avere il mare ma che ha altre fortune che nel tempo però sono diventati problemi. Valorizzare questi momenti è importantissimo per mettere insieme questa catena così importante economica e il porto è diventato un momento economico importantissimo. e tutto il territorio partecipa al successo del porto e non è solo la città di Salerno, è l'Agronocerino, tutte le aree che abbiamo detto Cava dei Tirreni, La Costiera, San Severino, Fisciano, Eboli, Battivari è tutta la provincia che concorre al successo del porto di Salerno per cui è giusto pure che questa grande ricchezza venga spalmata su tutto il territorio perché ne benefici un numero sempre più vasto di persone. Presidente, sul fronte croceristico siamo una stagione ormai alle porte che cosa si prevede e quali sono soprattutto le novità rispetto all'anno precedente? Dunque dobbiamo premettere che questo è un anno particolare, questo è il prossimo perché i campionati del mondo in Brasile di calcio hanno condizionato un po' e non sembra, però esatto, c'è un grande momento di attenzione e quindi i 20 giorni e il mese che occupano i campionati di calcio si estendono poi all'immagine della propaganda di tutta una nazione e di una vasta area, parliamo dei Caraibi, parliamo del Sud America per cui molti armatori hanno spostato le loro flotte lì approfittando i campionati del mondo di calcio c'è stata tutta questa pubblicità noi per fortuna non abbiamo perso come tanti porti italiani ma è una perdita fisiologica legata al momento noi ancora abbiamo aumentato di un altro 10% potevamo anche quest'anno raddoppiare le presenze però se non è pronto il polo croceristico, il molo Manfredi e la stazione marittima non possiamo partire, però ormai ci siamo e quindi l'anno 21 sicuramente avremo questo bellissimo nuovo polo croceristico quest'anno ancora una volta ci arrangiamo e tra una nave merci e tra una nave porta container inseriamo la nave da crociera e pur scendendo tra autovetture i croceristi scendono dalla nave tra i container però è tutto ordinato quindi apprezzano pure anche un porto bello è anche quando ben organizzato quindi anche se si passa vicino ai container quando è organizzato è bello pure vederlo in questo mondo però voglio dire successo che continua continua la crescita del turismo croceristico l'anno scorso abbiamo registrato quasi un milione di passeggeri 170-180 mila per le crociere il resto per le vie del mare siamo un punto importantissimo delle vie del mare Salerno insieme a Napoli facciamo circa la metà dei rorò i rorò sono i rotabili che vanno sulle navi e vengono trasportati in tutto il Mediterraneo specialmente nel sud dell'Italia quindi c'è un grande movimento, un grande fermento peccato che questo porto commerciale già tanti anni fa non sia stato delocalizzato a sud della provincia qui avremmo avuto il porto turistico più bello d'Europa del Mediterraneo ma questo è per cui non esiste neanche più la storia l'ho sentito in un film importante la storia di se si sa leggendo un attenzione su port Napoli fosse morto spero che non muoia nessuno ma noi cresciamo sempre di più e spero che anche Napoli risolve i suoi problemi perché insieme possiamo creare una catena di interessi economici importantissime e far risollevare questa nostra regione perché spesso qui arriva il lavoratore l'operaio che lavora in una galleria è di Napoli, vicino Napoli come fai a dire tu non devi lavorare perché devi lavorare un altro sono tutti lavoratori, tutta gente che ha bisogno però creare interesse da Napoli a Salerno significa dare risposte a tutta la regione con uno senza accorpamento siamo in tema di nomina del nuovo presidente dell'autorità portuale di Napoli ma questa è un'altra storia italiana è una storia italiana di una legge non chiara come tante leggi italiane che danno possibilità e spazio a migliaia di ricorsi io spero che questa storia finisca presto ma non ne sono sicuro c'è una riforma in corso della legge sulla portualità in queste ore si sta discutendo a Roma della nuova legge della riduzione di autorità portuali io spero che la riduzione non guardi solamente al porto più grande ma guardi al porto più efficiente e noi siamo a rischio nonostante i tanti successi siamo a rischio perché potremmo essere accorpati a Napoli e questo sarebbe un problema almeno al momento poi tutto si può fare in questa nazione si potrebbe anche fare un'altra cosa più importante invece di tanti ministeri che servono pure però alla fine potrebbe esserci una direzione generale per occuparsi di certe cose però rimetterei se ho la possibilità di riparlare con Renzi che vedevo di più giustamente quando non era presidente del Consiglio ma di dire rifacciamo il ministero della Marina Mercantile questa nazione non ha una risorsa naturale solo il mare che è una delle ricchezze più grandi meno inquinanti per cavare l'oro bisogna bucare le montagne e quindi questione ambientale per fare il petrolio sotto sole ricchezza però tanti problemi di inquinamento il problema del mare invece non esiste esiste un problema del mare se non è gestito bene è una nazione circondata dal mare sembriamo quasi un'isola eppure non abbiamo mai sfruttato questo momento ci voleva il ministero della Marina Mercantile ci vogliono meno autorità portuali se ne potrebbe volere pure solo una il problema è funzionare bene mettere in condizione tutti di poter velocizzare tutto il movimento Napoli speriamo che risolva i suoi problemi della governance perché è evidente qui ci vuole passione perché per tanti sacrifici per lavorare 20 ore al giorno se non c'è passione non fai nulla fai il tuo e basta e allora Napoli sta soffrendo in questo senso almeno un anno che senza governance dove non c'è una guida e un coordinamento i risultati che si ottengono sono sempre di tutti e specialmente di dei tanti dipendenti che lavorano senza che nessuno li conosca i meriti poi si ripiglia un presidente invece il gioco è di squadra però dove manca il coordinamento franno tutto quindi speriamo che Napoli risolva presto i suoi problemi perché insieme possiamo fare sempre di più poi vedremo la legge che ci riserva se ci fa stare insieme e vedremo come fare forse potremo dare qualche consiglio utile pure ai napoletani che hanno voluto fare sempre da padrone senza mai o spesso risolvere granché Presidente un'ultima cosa abbiamo detto ormai ci avviciniamo un po' alla stagione estiva anche per il turismo da di porto che cosa si prevede? c'è questa grossa organizzazione del porto commerciale però il porto turistico comunque ha la sua nicchia ma anche quella è importantissima Salerno si è preparato già da anni alla portualità turistica e gli investimenti di privati ci sono e sono importantissimi il nostro porto era turistico o mezzo turistico e mezzo commerciale adesso il successo del commerciale porta a restringere sempre di più gli spazi del di porto tanto è vero che ormai la parte del settore croceristico investirà tutta la parte dove c'erano le barche per il divertimento e per la stagione estiva e dobbiamo trovare una soluzione che stiamo cercando di trovare ma non c'è nessun porto al mondo come il nostro dove a 20 metri dal motoscafo c'è una porta container con tutti i problemi poi è come vivere in un'industria insomma non è semplice nonostante controlliamo l'inquinamento e l'ambiente la stagione anche in questo vedo una certa ripresa se anche qui cambia un po' la legislazione il modo del controllo del controllo molti non hanno più la barca perché sono scocciati di avere 10 controlli al giorno per controllare l'evasione fiscale e ce lo diciamo nei bar dappertutto quando stiamo a cena tra noi ma che ci vuole tanto a vedere all'origine come si compra una barca e come si utilizza ma se io esco con la barca io non ho barca ma se esco con la barca dal porto e mi comincio a fermare la guardia di finanza e va bene questo controllo perché va bene dopo 200 metri mi aspetta la barca dei carabinieri poi la capitaneria di Porto insomma a questo punto uno o va via in altri porti oppure ferma la barca ma si ferma un movimento economico l'economia controlliamo chi compra la barca di 5 milioni di euro e dichiara 30 mila euro l'anno per carità anzi ci fa piacere però non criminalizziamo il settore anche le barchette da 5 metri sono controllate in una maniera spaventosa allora insomma controlli sì ma con non solo il dovuto rispetto di chi sta su una barchetta ma anche con la dovuta velocità se uno si fa 10 giorni di ferro uno li può passare con i controlli continui ecco però è in ripresa anche questo settore è in ripresa